Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite con un nuovo episodio delle Gigi News Probabilmente l'episodio più importante di tutta questa stagione 7 del capitolo 2 di Fortnite Perché abbiamo delle notizie davvero pazzesche ragazzi, soprattutto per quanto riguarda l'evento finale Per quanto riguarda la storia in generale, perché andremo a parlare anche un po' meglio del piano della Sloan Sapete che proprio ieri siamo andati a parlare dei vari dialoghi che ci saranno in queste settimane delle missioni leggendarie della dottoressa Sloan Che ci fanno un attimino capire come vuole contrattaccare gli alieni Parleremo di un sacco di nuove skin ragazzi, non avete idea delle skin che sono state leakate, ma proprio ragazzi, veramente incredibile E tutto questo ragazzi è successo per via di un bug, infatti Fortnite probabilmente, poi io vi dico la verità non è che ci ho capito più di tanto Però praticamente Fortnite ha avuto problemi con dei bug per cui i leakers sono riusciti ad ottenere molti più leak del previsto, diciamo così Ma dopo magari ne parliamo meglio Prima di iniziare però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate in basta d'essere ci sia scritto supporto a un creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo Grazie davvero di cuore a tutti coloro che lo faranno Mi raccomando regà, lasciate un bel mi piace perché in questi giorni penso che potremo fare anche tanti altri episodi delle GG News Quindi direi almeno 5.000 like per altri episodi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Quindi mi raccomando controllate di essere iscritti Se non lo siete iscrivetevi E adesso vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Ovviamente ragazzi non ve lo sto neanche qui a dire Ce ne andiamo alle nostre casettine di fiducia Sperando che non ci venga gente E che anche nelle zone vicine non ci venga nessun altro Perché così almeno abbiamo il tempo per chiacchierare Anche oggi giocheremo da pad ragazzi Perdonatemi se ultimamente sto giocando un po' di più da pad Ma prima di fare la scelta tra mouse e tastiere e pad Vorrei un minimo riprenderci la mano col controller Perché comunque in questi giorni ho giocato veramente male da pad Dato che ci devo un attimino riprendere la mano Tra l'altro mi segna i tasti dell'Xbox Perché se è buggato ogni tanto mi segna i tasti dell'Xbox Ma in realtà sto ancora utilizzando l'Astro C40 Che ha i tasti della Play Però vabbè questo non ce ne frega niente Allora ragazzi la prima skin che è stata legata e di cui vi vorrei parlare È quella di Will Smith E c'è un po' una storia dietro Perché la gente sta iniziando a fare un po' di teorie dietro la skin di Will Smith E tra poco vi spiego il perché Ora non so se tutti voi conosciate Will Smith Do per scontato di sì Comunque è un attore No famoso Famosissimo E pare che il nome della skin di Will Smith Non sarà Will Smith Ma sarà il nome di un personaggio Che ha già interpretato E che potrebbe Diciamo interpretare nuovamente Quindi Prentice Fortnite con questo bug Potrebbe aver spoilerato l'uscita di un film Che in realtà non avrebbe dovuto spoilerare in questo momento Ah sì comunque ragazzi Ovviamente ci sono Le armi silenziate Attenzione No regà questo C'ha già il pompa Ah no la mitraglietta Ah regà ma questo Ma questo che c'è sta a fa' Qui No ho finito il caricatore Se no l'avrei ucciso Regà Cioè l'avrei ucciso Se no avessi finito subito Il caricatore Vabbè Comunque stavo dicendo Ci sono le armi silenziate insomma Praticamente La skin di Will Smith Si chiamerà Mike Lovray Che come leggete È basata sul franchise Di Bad Boy Che è un film Che vabbè Will Smith ha già girato Quindi potrebbe essere Banalmente un riferimento Al film vecchio Ma ovviamente La gente ha iniziato a far teorie Su un futuro film Di Bad Boy Quindi magari Un prossimo film Appunto Sempre su Bad Boy Sto parlando al singolare Ma è Bad Boys Ragazzi il film Lo chiamo Bad Boy Ma vabbè Bad Boys Pardon Comunque appunto Questo spoiler Fatto per errore Da parte di Fortnite Potrebbe non solo Aver spoilerato cose Che Epic Games Non voleva spoilerare Su Fortnite Ma anche un film Di cui ovviamente Pensiamo che non c'entri nulla A Fortnite Se non per la skin Quindi una collaborazione Ma vabbè Comunque Era una piccola curiosità Sulla skin di Will Smith Insomma Anche se mi triggera un po' A avere Will Smith Su Fortnite Che si chiama Come uno dei tanti personaggi Che ha interpretato Però se è una collaborazione Specifica Con quel film Ci sta Poi ragazzi È stata ligata anche La skin di J Balvin Sappiamo che J Balvin Ha già collaborato In passato Con Epic Games È stato uno dei primi artisti A partecipare Al Party Royale Lui ha fatto appunto Il suo concerto Su Party Royale E oltre alla skin base Ha anche altri stili Che secondo me Sono fighissimi Ragazzi Guardate qua Sono veramente molto belli Anche se sono curioso Di provarli in game Perché mi sembrano Un po' scomodi Da giocare Diciamo così Potrebbero non essere Proprio il massimo Comunque io non ho trovato Mezza cura Cioè non ho trovato Neanche le bende Nelle mie casettine di fiducia Mannaggia la miseria La safe è pure lontana Ma buono 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 Devo dire ottimo Per fortuna abbiamo la mucca Comunque fatemi sapere ragazzi Cosa ne pensate Queste skin di J Balvin Ovviamente anche quella di Will Smith Poi ragazzi Un'altra cosa Che mi triggerava da morire Di questa stagione Era la skin di Rick Ma non perché mi triggerasse La skin di Rick Ma per carità Fighissima Anzi Cioè mi piace molto Lo sapete L'ho anche già detto In altri video In altre occasioni Ma il fatto che Morty Quindi morty No? Di Rick e Morty appunto Fosse solo un piccone Cioè era una cosa Che mi triggerava da morire Per carità La corporatura di Morty Non si presta per niente A una skin di Fortnite Però Potevano inventarsi qualcosa Per piazzarlo nel pass Vabbè Comunque è stata ligata Anche la skin di Morty E ho tirato Un sospiro di sollievo Ragazzi Eccola qui Ovviamente È tipo Come se fosse su un robot Come Come kit Per capirci Il figlio di Miauscolo Io praticamente Sono morto Perché sono Praticamente morto Per fortuna Con due flopper E niente Quindi meno male Che prima o poi uscirà Anche la skin di Di Morty Perché Mi Mi triggerava questa cosa Ragazzi vi dico la verità Sì non sarà importante Per la storia Non è importante Per Fortnite Però Sinceramente Si chiama Rick e Morty Perché fare la skin Soltanto di Rick Poi un'altra cosa Molto figa E questa è veramente figa È che come al solito Fortinet riprende Delle skin storiche E le rifà Tra virgolette Con degli stili particolari Già sono più volte Che vi faccio notare Che la prossima stagione Includerà all'interno Halloween Cioè durante la prossima stagione Ci sarà di mezzo Halloween E lo sapete ragazzi Che fortinet ha sempre fatto Comunque Un sacco di cose Per Halloween Sempre Regà Cioè è proprio puntualissimo Addirittura L'anno scorso Sì l'anno scorso Sì l'anno scorso L'anno scorso Non la scorsa stagione Ma l'anno scorso Avevo detto bene Fece tutta quella cosa Con Mida Mida zombie Che tra l'altro Anche lì Tutti triggerati Perché non ho mai capito Il motivo per cui Non abbiano fatto la skin Di Mida zombie Io penso che L'avremmo shoppata un po' tutti Ragazzi La skin di Mida zombie Sarebbe stata Una figata Ma di quelle Veramente rare Tanta roba Non l'ho mai capito Perché non l'abbiano fatta Però vabbè Sono scelte Sono scelte Vabbè Insomma Sembra che stia Per arrivare La skin Di Alla deriva Versione Probabilmente oscura Quindi potrebbe essere Tranquillamente Un qualcosa Di riferimento Ad Halloween Ovviamente Come potete vedere Anche altre skin Sono in arrivo Ora mi sono concentrato Su Alla deriva Perché è stata Una delle mie skin Preferite Ragazzi Io la adoro Come skin Alla deriva Assolutamente Poi ragazzi Qui c'è un elenco Di tante altre skin In arrivo Cioè Ma avete capito Quante skin Sono state ligate Cioè tutte Penso che qui abbiamo Le skin Per i prossimi 3, 4, 5 mesi Se non di più Cioè Prima è stato ligato Qualsiasi cosa Per quanto riguarda Le skin Poi tra l'altro Di questo ne parleremo dopo Ma i leaker più famosi Pare che si siano messi Un po' d'accordo Per non mettersi lì E ligare Proprio qualsiasi cosa Perché Altrimenti Sembra che avrebbero Ligato anche già L'intero evento finale Quindi si stanno Semplicemente limitando A dare qualche informazione Sull'evento finale E tra un po' Ne parliamo Però ovviamente Ragazzi Le skin Si sono permessi Di ligarle tutte E quindi sulle skin Abbiamo un sacco Un sacco Un sacco di notizie Appunto Come mi stavo dicendo Poco fa Comunque ragazzi Non è in safe Neanche troppo male Anche se mi mancano Un sacco di materiali Però Va bene Comunque qui ragazzi Possiamo leggere Nell'elenco Alcuni nomi particolari Come per esempio Il re dell'amore Che tra poco Andremo a vedere più Nel dettaglio Alcune skin Che magari erano femminili Hanno fatto anche La versione maschile E viceversa Mentre poi In quest'altro elenco Secondo me Ci sono altri nomi Ancora più curiosi A parte il minotauro Che non vedo l'ora Di vedere una skin Del minotauro Certo avrà una Testa gigantesca E secondo me Sarà ingiocabile Però secondo me La faranno veramente figa Ma abbiamo La dea della luna Sarà pazzesca Donna squalo Ok Va bene Lì comunque stanno Fightando Ma mi faccio gli affari miei Arca oscura Ma non so che cosa Aspettarmi Da una skin del genere E vabbè Poi la versione femminile Della skin malcore O malcore Non ho la più pallida idea Io avrò fatto un fail Allucinante Perdonate la mia ignoranza In questo campo E vabbè Spia ben vestita Un nome in codice Staremo a vedere Comunque Tra tutte le skin Che abbiamo detto finora Fatemi sapere Qual è quella Che vi potrebbe Aver attirato di più Ma io vi assicuro Che non sono assolutamente Le più interessanti Che vi presenterò oggi Perché allora Questa qui è la rappresentazione Del re dell'amore Probabilmente Di cui abbiamo parlato prima C'è anche la regina Sono palesemente Un riferimento Alle classiche carte da gioco Insomma Quelle per giocare a scala 40 Per intenderci O a burraco Ma oltre a loro Quindi oltre al re E alla regina C'è anche il giullare Che a me sembra La skin più figa Tra l'altro Tra le tre Poi mi direte voi La vostra nei commenti Ma a me tra le tre Sembra anche quella Un po' più figa Ma attenzione perché la parte Delle skin più interessanti Arriva adesso Si parla di una skin Della mummia Che una skin mummia Non so perché ragazzi Ma mi ricorda Immediatamente Una skin di un pass battaglia Ma non di un pass battaglia Vecchio però Una skin mummia La vedrei perfettamente Messa a pennello Per un pass battaglia Quindi potrebbe anche essere La skin del prossimo pass battaglia O di quelli futuri Ma molto più probabilmente Di questa E adesso vi spiego il perché Ma probabilmente L'avrete già letto Dalla notizia di fortanetti news Che è il canale telegram Che seguo per il news E il leak appunto Perché la mummia Corrisponde al tema Dei punti di interesse Che ci saranno Nella prossima stagione Perché anche questi Sono stati licati Regà Cioè io anche per quello Vi dico che oggi È uno degli episodi Più interessanti Ma questi che hanno No regà Cioè si sono trasformati Praticamente Cioè ma non ho parole Cioè avete visto Erano le tranquilli Poi si sono tipo risvegliati Con il Parassito Parassito Col parassito Paraparassito In testa Incredibile Qua ci sono Tre pezzi di carne Ma non ci faccio nulla Ma ho anche pochi colpi Dell'assalto Vabbè comunque Stavo dicendo Oddio Dai basta Lasciatemi in pace Por favor Comunque sicuramente Ce ne saranno altri Punti di interesse Però tra quelli che ci sono Trapelati Tra quelli che sono trapelati Ci sono questi La piramide Dei cubi Ok E il luogo Dello schianto Quindi capite bene Che la piramide Insomma Con la mummia Poi quando fai A mettere Un punto di interesse Collegato con una skin Io credo sempre Che quella skin Deve far parte Di quella stagione Quindi se non sia del pass Credo che comunque Gli rilasceranno Una parte importante Durante la prossima stagione Ma io penso più Per il pass ragazzi Infatti anche I leaker Parlano di pass Insomma per quanto riguarda La mummia Ma attenzione Perché si parla Di un set Della skin Della fondazione Con skin Mantello Ovviamente Piccone E copertura E la data di rilascio È sconosciuta E questa cosa ragazzi Ci potrebbe far pensare Che la fondazione Faccia parte Del prossimo Pass battaglia Quindi del pass battaglia Della stagione 8 Per quale motivo? Tralasciando il fatto Che poi Sono trapelati anche Lo spray Come potete leggere La scia Non ha un tag Per il negozio Mentre tutte le skin Che fanno parte Del negozio oggetti O comunque escono Nel negozio oggetti Hanno un tag Di riconoscimento O comunque per i file Di gioco del gioco Per i file Di gioco del gioco Gioco di parole Incredibile Gioco gioco E dato che dispone Di tutta questa roba Quindi di un set Molto probabilmente Sarà il set Che farà parte Di tutto il pass Che quindi si sbloccano Mano a mano Che va avanti Con i livelli del pass Sarebbe molto interessante Anche perché comunque Il personaggio fondazione In qualche modo Deve rientrare nella storia Cioè è arrivato Ha fermato il punto zero Aiutato da Jonesy Eccetera Poi scompare così Diciamo che Mida Ha fatto una fine del genere Perché tutta una stagione Dedicata a lui Comandava tutto Dispositivo De qua De sopra e de sotto Sembrava che dovesse Conquistare il mondo intero Poi niente Lo fermano così Mangiato da uno squalo Mentre stava su una zatterina Quello è stato triste Quello è stato triste Noi speriamo sempre In un ritorno Colorioso di Mida Ma la vedo difficile Ci avevamo sperato Con l'arrivo di Merigold E le sue sfide Ma purtroppo Ci sbagliamo E vabbè Ma attenzione Perché vi ricordate Il video di ieri Che se non vi siete visti Monellacci Andatevi a recuperare Dove abbiamo parlato Dove abbiamo parlato Dei dialoghi Della dottoressa Sloan Che ci sono stati Questa settimana Con ovviamente Le sfide leggendarie E che ci saranno La prossima settimana Con le altre sfide leggendarie Aspettate ragazzi Perché questo qui Magari lo andiamo Un attimino a laserare In questo modo Ovviamente Non l'abbiamo Minimamente laserato Come non l'ho preso Però Ah ma Oh my god Non siamo in safe This is a Little problem This is Oh my god Oh my god Per due Per tre No buena Questa situazione Ok però Gli stanno sparando Regà No Pensavo Mi editassi qui Pensavo fossi Un po' più coraggioso No Pensavo fossi Più coraggioso Chico Ma Ma Uno di vita Uno di vita Ottimo Da dove sta sparando Regà No Ok Ha planato Via E noi abbiamo finito I materiali Direi ottimo Direi che Meglio di così Non poteva andare Eh ok Ho finito i materiali Ufficiale Ok No No Ci ho provato Ragazzi Ci ho provato A quel punto Ci ho provato Comunque Meglio così Almeno ne andiamo a parlare Direttamente in lobby Vi stavo dicendo Avete visto il video di ieri Dove siamo andati ad analizzare Tutti i dialoghi Di queste settimane Delle sfide leggendarie Della dottoressa Sloan Dove abbiamo detto Che finalmente Vuole entrare In azione Quindi Contrattaccare immediatamente Gli alieni Senza aspettare Una loro prima mossa Bene Collegandoci invece I dialoghi Che ci sono stati Qualche settimana fa Dove ha parlato Di un'arma Per poter abbattere Completamente La nave madre Dove ci aveva fatto Anche intuire Che si trattava Insomma Di una bomba E che tra parentesi Ha ripetuto anche In questi dialoghi Era semplicemente Per riprendere il discorso Che già se ne parla Da un po' di settimane Bene Sembra che la bomba In questione sia Questa qui E che sarà Posta tra virgolette A potere pannocchia Quindi in realtà Possiamo immaginare Che quando Tra un po' di settimane Insomma Ci sarà la 17.50 Che è l'ultima patch Di questa stagione 7 Quindi quando la nave madre Andrà a risucchiare Potere pannocchia Risucchi dentro di sé Anche questa bomba Che verrà appiazzata Appunto Dalla dottoressa Sloan Ora c'è da capire Se quella bomba La dottoressa Sloan L'ha appiazzata A potere pannocchia Se ha previsto La mossa degli alieni Quindi di andare A potere pannocchia Ma noi sappiamo Fino ad ora Che la dottoressa Sloan Non ha ancora capito Come prevedere Le mosse degli alieni Ne abbiamo parlato Proprio ieri Oppure è un caso E banalmente Essendo lì Attualmente La zona principale Dove sta operando L'ordine immaginario Semplicemente La bomba si trovava lì Per puro caso E quindi Fortunatamente Loì si ritrova Gli alieni Che si prendono sta bomba Per puro caso Non lo so raga St'ultima ipotesi È effettivamente Quella un po' più credibile Perché la dottoressa Sloan Stessa ha detto Che non può prevedere Le mosse degli alieni Però allo stesso tempo È un po' triste Quindi Mi piacerebbe pensare E credere Che comunque La dottoressa Sloan Abbia capito Come prevedere Le mosse degli alieni E quindi fargli ritrovare Una bomba Proprio nel luogo Che vanno a risucchiare Sarebbe figo Ma penso che accadrà così In qualche modo ragazzi Anche se nei dialoghi Non lo sta ancora dicendo Succederà qualcosa L'ultima notizia Quella veramente importante Oddio Anche questa della bomba Probabilmente era molto importante Anche le skin Comunque bene o male Ci hanno detto molto Sul futuro di Fortnite Però E qui è spoiler Qui è spoiler alert Però se avete aperto Un video del genere Vuol dire che li volete Di spoiler E ribadisco Che comunque I leagher si stanno frenando Perché probabilmente Hanno messo mano Su molti più file di gioco Per poter capire Tutto l'evento Quindi rimaniamo Ad occhi aperti Perché nei prossimi giorni Potrebbe darci Qualche altra notizia Mai ricriptata Sarebbe figo Comunque sembra Che alcune stringhe Attualmente utilizzate Per i vari rapimenti Dei punti di interesse E anche alcune stringhe Del cubo Verranno utilizzati Per l'evento finale Di questa stagione 7 Quindi È plausibile pensare Che Fortnite Dopo un bel po' di tempo In realtà Dopo un paio di stagioni Due tre stagioni Perché l'ultimo è stato Nella stagione 4 Se non erro Sì quindi dopo un paio di stagioni Ritorni Con degli eventi finali Perché l'ultimo dovrebbe Essere stato quello Con di Galactus Quindi la stagione 4 Se non sbaglio Ragà C'è un vuoto di memoria Però mi sembrate sì Poi stagione 5 6 abbiamo avuto Degli eventi iniziali Più che altro Oltre a qualche Magari come al solito Sneak peek Di qua e di là Ma non erano Dei veri eventi Perché poi ci sono stati Appunto con quegli Iniziali di stagione E quindi sostanzialmente Regà Questa volta Pare che ci siano Tutte le carte in regola Per avere un evento finale E non iniziale di stagione Mi sta mettendo un po' di ansia Questa cosa Perché ormai non sono più abituato A vedere gli eventi finali Ma va bene Forse sono più contento così No comunque A parte gli scherzi Finalmente abbiamo la conferma Del cubo Regà Ma non c'era bisogno Di questo leak Questo leak Ce l'ha confermato al 100% Insomma Detto questo ragazzi Io vi ricordo come al solito Di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti di Fortnite Per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non è stato fatto Quindi mi raccomando Regà Controvi di essere iscritti Se non lo siete Iscrivetevi Lasciate un bel mi piace Per supportare le GG News Perché come avrete capito Da questo video Anche nei prossimi giorni Potranno uscire delle notizie Fuori di testa Quindi mi raccomando Un bel like Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi